mi sono intoppato proprio così in partenza malissimo bruttissima questa signori benvenuti in questo nuovo video sono maullo941 ci siamo tornati su un nuovo video sul mio canale con fall guys season 3 signori l'edizione natalizia infatti la nostra tic tac elfica è pronta a cercare di fare meno figure brutte rispetto all'ultimo video che siamo andati veramente male vediamo di riuscire a fare qualcosa di più interessante prima di partire il video signor io vi ringrazio vi ricordo di iscrivervi al canale vi ringrazio per i like per i commenti per i suggeriti e per il supporto che date al canale e a questa serie vi ricordo i sui social mi trovate come maullo941 sia su instagram che su facebook dove vi aggiorno sull'uscita dei video e su quando facciamo le live sia su questa piattaforma che su quella viola perché mi trovate anche sull'altra piattaforma quella viola sempre come maullo941 detto questo signori che ricordarvi ricordarvi che sono attivi gli abbonamenti se volete supportare il canale con delle donazioni lo potete fare detto questo non perdiamo altro tempo signori partiamo con il video e la nostra tic tac è pronta a volare verso nuove avventure sperando ripeto di non fare brutte figure come l'altra volta come nell'ultimo video speriamo che questa volta vada un poco meglio speriamo signori incrociamo l'incrociabile ormai è un vizio signori purtroppo hanno fatto questo solo un nuovo livello iniziale e me lo sparano sempre ogni volta è la terza volta che lo faccio in due video questo livello vediamo se siamo fortunati come l'episodio scorso che per una botta di fortuna siamo riusciti a superare l'ultimo saltellino e quindi vediamo vediamo se riusciamo a magari superare il primo livello l'obiettivo minimo è sempre quello dei tre livelli signori riuscissimo a raggiungere i tre livelli dico per me il video è c'è c'è va bene dico se vediamo eliminati già subito così a primo colpo dico è una gran figura di letame per dirlo in maniera pulita signori partiamo da ultimi ultima fila ma non abbiamo paura la nostra tic tac puffè si puffettosa la nostra tic tac dai 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 abbiamo dei problemi di lag signori abbiamo dei problemi di lag che cosa bellissima che cosa bellissima ma ce lo possiamo fare ce la possiamo fare nonostante il lago e noi riusciamo a combattere questo livello me lo sento melettante due signori, ma sento che il centro di ciò possiamo fare sento che ciò possiamo fare dai 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 calma 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 no facci ah no si brava brava tic tac brava tic tac prova tic tac non abbiamo paura di nessuno grande non sa tik tac che col soldo a pesciolino andato avanti col sotto al pesciolino andato avanti mamma mia che siamo andati bene dai 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 pigliamo la larga pigliamo la larga di qui si scivola ma ci riusciamo ci riusciamo ci riusciamo ci riusciamo ok ok stiamo andando bene stiamo andando bene signori no non prendiamo queste piattaforme che sono la rottura di scatole in mare calma 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 ok ora se non ricordo male io devo saltare su queste e lei brava così dai tic tac poffettosa questi stanno a volare sto superman no 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 dai così bello qualificati signori dai ho capito il trucco e ho capito il trucco signori quando si dice capire il trucco nonostante i lag nonostante lag abbiamo passato il primo livello da ventiquattresimi niente male niente male signori vediamo qual è il prossimo vediamo cosa ci aspetta nel prossimo nel prossimo livello vediamo vediamo siamo rimasti in 42 porca miseria quella la canzone diceva 44 gatti vita per sé con il resto di due vero 40 40 42 ma sono diventato ciecato signori sono diventato ciecato prossimo livello skyfall non lo conosco signori cos'è skyfall jump through the holes to score point ok dobbiamo volare dentro i cerchi per ottenere punti è come quello dei cerchi normali solo che ci sono cose cose strane ok perfetto semplice signori ma mamma che belli belli semplici che hanno inventato in questa season 3 porca miseria ma è complicatissimo 0 su 15 ok calma calma ricordiamoci che siamo lagosi 3 occhio occhio non prendere questo che si fa volare via no 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 dai non ci credo da dove siamo ripartiti dai ok no 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 porca miseria c'ho il lag che mi sta laggare dai così brava la mia tic tac no 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 ripartiamo dall'inizio porca miseria no l'ho presa l'ho presa una trampata terribile ok sono tutti i livelli nuovi signori sono carini ma sono una cara rotto in 5 in 6 si sono qualificati aia 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 la vedo difficile la vedo dura signori la vedo dura passa passa tic tac va bene 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 dai così ok 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 dobbiamo centrare il cerchio finale va ad accendare il cerchio dobbiamo centrargi non ci posso credere doveva semplicemente centra il cerchio finale ok non rompere le scatole pure no 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 lag in destano gli ultimi quattro stalla gamma mia non è stata la c signori ultimi quattro posti occidi fuerti 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 fi Non abbiamo paura Ci riproviamo, ci riproviamo, ci riproviamo Signori, ci riproviamo subito Vediamo semplicemente Se otteniamo qualcosa di interessante I calzini, gli abbiamo ottenuto i calzini Vediamo, sì, abbiamo ottenuto i calzini Che cosa sia simpatica Equipaggiamo i calzini Ah, i guanti, erano i guanti con i calzini Che cosa simpatica, ok Va bene, non perdiamo tempo, signori, torniamo in partita Torniamo in partita Oh, finalmente, signori Ripartiamo dal livello difficile, DoorDash Il livello del supermercato, signori Il livello del supermercato Quando c'è il Black Friday Che tutti si ammassano per entrare subito nelle porte E poter entrare subito nel negozio Ecco, io lo vedo così, questo livello Questo livello lo vedo così Come il Black Friday Che ti aprono il negozio E tu devi entrare subito prima degli altri Partiamo primi, dai, abbiamo l'elfa a fianco a noi Abbiamo il nostro gemello a fianco a noi che ci porterà fortuna Dai, fratello È rimasto fermo, lo scemo Dai così, facciata subito, vincente alla prima Andiamo su questa, andiamo su questa, andiamo su questa Facciata subito, ok Torniamo di qua, torniamo di qua Andiamo, andiamo di qua, andiamo di qua Una volta ho letto che c'era Aia, mamma che l'abbiamo presa dura Ehm, una volta ho letto che c'era un Una cosa che se tu guardavi i triangolini diversi Capivi quali erano le porte che si aprivano Rispetto ad altre che non si apri Mamma mia, trambata, trambata Trambata, trambata Ok, ok, si passa Facciamo andare avanti gli altri Vediamo chi è che sfonda la porta No, 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 si sfondano le due centrali Io sono rimasto dietro Dai Ma quanto sei stupido Quanto sei stupido Dai, 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 alzati Alzati che sono passati tutti Mannaggia a te Alzati, dai, 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 dai Dai, dovremmo farci Dovremmo farci, dovremmo farci Forse, forse, forse Col salto Col tuffo a pesciolino Ce l'abbiamo fatta Ok Questa è andata, signori Questa è andata Questa è andata Me la sento calda Me la sento calda Possiamo farcela Possiamo farcela Possiamo farcela Vediamo qual è il prossimo livello Attenzione, cosa uscirà Rollout Ok Si passa dai nuovi livelli A livelli vecchi, praticamente Dico Una via di mezzo Uno e uno No, o fai solo nuovi O fai solo vecchi Va bene Perfetto Rollout Ci sono Un'altra Ho fatto un rollout In cui ci avevo davanti i cannoni Che ti sparavano le cose addosso Penso che questa volta Non dovrebbe esserci niente Di preoccupante Vediamo come finisce Sexy No, ecco Ma perché me le chiamo io le cose? Mi dite perché me le chiamo le cose? Dico l'altra volta Ho detto che c'erano le cose Che mi venivano sparate addosso Sono andato in confusione E pure stavolta Le cose sparate addosso Mi sembra giusto Dico Tra l'altro C'ho il lag Che sta laggando paurosamente Sali Tic tac Ok Il nostro piccolo elf Il nostro piccolo elf Dai 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 Ai ai Dai dai calma 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 Una botta già sono caduti Una botta già sono caduti Dai 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 Calma 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 Occhio al fragolone Occhio al fragolone Calma calma I 9 già sono caduti signori I 9 già sono caduti Possiamo fare bene Possiamo fare bene Forse Protezione Protezione Ok Calma calma I 11 sono caduti signori I 11 sono caduti Dobbiamo andare di nuovo, dobbiamo spostarci di nuovo Aia, 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 aia Siamo in mezzo a debuchi, non è buono questa posizione In dodici sono cadute, signori Dodici sono a terra Dodici eliminati, dodici eliminati Forza, forza, forza Tredici, tredici eliminati, tredici eliminati Rimaniamo qui sul laterale che forse è la cosa migliore Se magari nessuno mi rompere scatole Forse, no, 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 lasciatemi, lasciatemi Tredici, non stacca scappi nessuno, signori Forza, qualche bel volontario che si lancia di sotto Qualche bel volontario che si lancia di sotto No, 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 tredici Andiamo a scendere Oh, no, no, mamma, mi stava a buttare sotto, signori Aia, 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 siamo al limite, siamo al limite, siamo al limite No, ero vivo Ero vivo, ma porca Ecco, sedici su sedici Ma perché quando casco io Perché quando casco io, guarda caso Giusto, giusto, vengono eliminati gli ultimi Mannaggia, allora Niente, signori, andiamo male Andiamo maluccio, andiamo proprio male Torniamo al menu principale Niente, questo Periodo natalizio ci porta solo sfiga Niente, mi sa che questo vestito d'ex Fu proprio sfigato in una maniera terribile Raggiungiamo il livello 4 Sì, sì Voglio il nome con la Con la Con il pupazzino Con la pallina da neve E ci avviciniamo al livello 6 Che è quello del pupazzo da neve Voglio il vestito del pupazzo da neve A tutti gli effetti, signori Detto questo io vi ringrazio Vi ringrazio per il like, per i commenti Per i suggerimenti e per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo video Bella raga Abbiamo preso tutta la tutina con le calze Ma che cosa brutta Ma non l'avevo visto Mamma mia, mamma mia Cos'è brutta Calza ovunque Va bene, signori Detto questo Ci vediamo al prossimo contenuto Bella raga Ciao Ciao